Più forte delle polemiche. Il presidente del Manfredonia Calcio, Antonio Sdanga, la sua partita personale l'ha giocata in silenzio in questa estate, nella quale si è parlato poco di aspetti tecnici e molto della sponsorizzazione di Energas, che per i prossimi tre anni ha legato il proprio marchio alla società bianco-celeste. Ha atteso il momento opportuno per parlare alla vigilia del raduno della squadra domani pomeriggio al Miramare ed evitando, almeno durante la conferenza stampa, di scivolare nelle polemiche su quel partner commerciale poco amato in città. Ci può stare una sponsorizzazione come tante altre, pertanto per me resta uno sponsor, resta il dottor Menario una persona che ha mantenuto una parola che mi aveva dato qualche mese fa e quindi per me è una persona squisita, con cui ho ottimi rapporti e che mi auguro che prosegua a lungo questo rapporto di sponsorizzazione con il Manfredonia. Il presidente Zdanga ha spiegato di essere il socio di maggioranza della nuova società a responsabilità limitata, ha annunciato la conferma del direttore sportivo Elio Di Toro e ha illustrato le novità che serviranno per raggiungere attraverso i canali social quanti più tifosi possibili. Anche se i primi che dovranno sostenere questa squadra, ha sottolineato proprio Di Toro, dovranno essere i Manfredoniani. C'è da rinfocolare un entusiasmo non solo con operazioni di marketing ma anche e soprattutto con i risultati del campo e sulla questione. Zdanga assicura che l'obiettivo è quello di migliorare il sesto posto della passata stagione. Io sono sei anni che ho la fortuna di migliorarmi, sempre, e vorrei farlo anche quest'anno, quindi l'anno scorso sono arrivati i sesti, il quinto posto va già bene. Da lunedì la squadra, sotto la guida del riconfermato Massimiliano Vadacca, si trasferirà a San Giovanni Rotondo per svolgere il ritiro precampionato sino al 13 agosto. Al gruppo già messo a disposizione del tecnico potrebbe aggregarsi il difensore Nossa e il mercato dei sipontini. Resta fluido, come ammette Di Toro, perché per completare la squadra servono non solo gli under ma almeno altri 3-4 giocatori senior.